Passare da una Canon 6D a una Canon 5D è un buon affare? Questa è una domanda che mi è stata posta da uno di voi e siccome è una di quelle domande per cui secondo me c'è un pochino di più di ciccia da tirare fuori ho deciso di realizzare un video proprio su questo argomento. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di macchine fotografiche. In particolare andremo a stabilire se mantenere una Canon 6D, quindi una full frame entry level oppure passare alla 5D Mark III o Mark IV che sono state delle fotocamere professionali che hanno fatto storia. Non vi dico subito il mio parere perché andiamo prima a esaminare quali sono i pro e i contro delle tre fotocamere per cui il mio parere lo lascio alla fine. Vi consiglio quindi di seguire questo video per intero e vi ricordo a questo punto che se questo tipo di confronti e paragoni vi piacciono potete iscrivervi al canale cliccando il bottone qua sotto attivate anche la campanella per non perdervi le notifiche e lasciatemi anche un like così mi fate capire che questo tipo di contenuto vi piace. Andiamo a incominciare. Esaminiamo innanzitutto la domanda. La domanda che mi è stata fatta è proprio questa Venderesti la tua Canon EOS 6D per passare a un modello più progredito sempre rimanendo su una reflex? Passeresti da Canon EOS 6D a Canon EOS 5D? Questa è una domanda che mi è stata posta e l'ho trovata molto interessante. La domanda ovviamente manca un po' di contesto perché una cosa che bisognerebbe andare a stabilire è ma questa fotocamera serve per diletto, serve per lavoro, è un regalo. Insomma dobbiamo capire un attimino che cosa stiamo andando a fare perché nel momento in cui io sto semplicemente facendo delle foto al mio cane o delle foto al nipotino che sta facendo i primi passi io vi dico veramente col cuore in mano che questo passaggio di attrezzatura solamente con questo scopo non sta molto in piedi nel senso che stiamo comunque andando a spendere dei soldi per avere qualcosina in più ma proprio poco 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 in un genere fotografico come quello non si riesce veramente a percepire la differenza quindi esistono casi in cui veramente sarebbero soldi buttati se siamo degli amatori totali e stiamo facendo un genere fotografico passatemi il termine frivolo cioè se stiamo facendo delle foto personali secondo me questo è un upgrade che non ha assolutamente senso ma perché nel momento in cui ci dotiamo di una fotocamera più progredita stiamo pagando tanto per delle cose ben precise e con un tipo di fotografia di questo tipo non ne stiamo usando quasi nessuna quindi in questo caso veramente non avrebbe molto senso secondo me il passaggio ha senso nel momento in cui vogliamo più performance quindi nel momento in cui vogliamo per esempio una messa a fuoco migliore la 5D ha sicuramente una messa a fuoco migliore rispetto alla 6D stiamo parlando dalla 5D 3 in poi quindi la 5D Mark II no la 5D Mark II ha una messa a fuoco inferiore anche se il file d'uscita è più bello quindi anche lì ci sarebbe da dire ma ho già fatto un confronto tra la 6D e la 5D Mark II lo trovate sul mio canale e qui andate a ripescarvelo invece adesso stiamo parlando dalla 5D Mark III in su e qui è tutto un altro paio di maniche perché queste due fotocamere hanno un sistema di messa a fuoco nettamente migliore quindi se stiamo pensando a soggetti in rapido movimento come potrebbe sì effettivamente essere un cane che non sta mai fermo quindi noi possiamo pensare di dotarci di una fotocamera più progredita per andare a scattare un soggetto in rapido movimento come già detto se è solamente il nostro cane secondo me sono tanti soldi da investire per fare delle foto del nostro cane lo becchiamo quando è stanco quando ha finito di correre la foto gliela facciamo lo stesso secondo me nel momento in cui dobbiamo fare qualcosa di un pochino più complesso invece può avere senso dotarsi di una fotocamera migliore per esempio stiamo facendo le gare di atletica di un nostro figlio, di un nostro nipote, di un amico, di chi che sia stiamo facendo delle gare di atletica quella è una cosa un pochino più complicata dove magari ci viene richiesta un po' di precisione in più magari siamo noi che ci siamo offerti di fornire quel servizio magari anche a titolo gratuito se siamo amatori abbiamo piacere a farlo ecco però che sarebbe un peccato non riuscire a consegnare e quindi se abbiamo il pallino della fotografia e vogliamo metterci a fare questa cosa per diletto e abbiamo i soldi ovviamente da spendere per comprarci una fotocamera più progredita ecco che avere un sistema di messa a fuoco migliore sicuramente ci può aiutare cominciamo a salire verso quella che potrebbe essere una fascia un pochino più vicina al semiprofessionista o anche al professionista ecco che noi possiamo lavorare con Canon EOS 6D ve lo dice uno che ci lavora io la uso tutte le settimane la uso quella macchina la uso ancora adesso e la preferisco a moltissime mirrorless quindi si può usare quella macchina assolutamente però non sempre ci sono delle cose che fa benissimo e delle altre che fa un po' meno bene per esempio io a fare un matrimonio con Canon EOS 6D non sono serenissimo nel senso che la macchina performa se la cava però io so che c'è di meglio e io stesso ho di meglio e quindi nel momento in cui devo fare un lavoro retribuito preferisco portarmi qualcosa che performi un pochino di più vi dico banalmente anche senza andare a scomodare i mostri sacri io quando devo fare un matrimonio preferisco usare Canon EOS 80D piuttosto che usare la 6D perché sono diverse la 80D è più simile alla 7D e quindi ha un sistema di messa a fuoco che è migliore più rapido è pensato per l'azione rispetto alla 6D che ha un sistema di messa a fuoco che a me piace molto semplice però non è pensato per oggetti o per cose o persone che si muovono rapidamente quindi c'è questa discriminante non solo nel momento in cui andiamo a utilizzare la 6D abbiamo una gamma dinamica che è inferiore e abbiamo una tolleranza agli alti ISO che è inferiore ovviamente è inferiore rispetto alla 5D Mark III ma è ancora più inferiore rispetto alla 5D Mark IV lì non dico che c'è un abisso perché non è vero uno che non ne capisce niente guarda le due foto e le vede identiche e non capisce la differenza quindi non è così tanta questa differenza però c'è e nel momento in cui siamo amatori e voluti o soprattutto professionisti questa differenza fa la differenza quindi nel momento in cui vogliamo un po' di qualità in più un po' di risoluzione in più può essere una scelta assolutamente azzeccata nel momento in cui vogliamo un po' più di performance sulla messa a fuoco può essere una scelta azzeccata nel momento in cui vogliamo più tolleranza sugli alti ISO è sicuramente una scelta azzeccata ovviamente spostandoci da un modello entry level che per quanto fosse full frame è comunque considerato entry level fa delle cose egregie ma ciò non di meno è un gradino sotto quando passiamo al gradino sopra e passiamo alla professionale abbiamo tutta una serie di vantaggi ora l'altra domanda che mi è stata posta sempre a questo riguardo è e l'ho trovata anche questa molto interessante ma se io passo effettivamente da una full frame per quanto entry level a una full frame professionale perdo il gusto di scattare ci sono troppi bottoni troppe cose che devo tenere a mente e quindi non riesco più a godermi l'esperienza di scatto oppure è la stessa cosa? allora vi dico la mia opinione ovviamente è solamente un'opinione perché questa è una cosa che non è scientifica secondo me nel momento in cui passiamo dalla 6D alla 5D può cambiare tutto o può non cambiare niente vi spiego perché la 5D è una macchina più progredita ha più bottoni è vero ha più bottoni personalizzabili ha più cose dentro ha un menu che è espanso rispetto a quello della 6D perché gli hanno messo più cose più impostazioni di messa a fuoco più codec video gli hanno messo più cose il punto però qual è? queste cose noi possiamo decidere di usarle oppure di non usarle se noi decidiamo di usarle quindi espandiamo il nostro raggio d'azione facciamo delle cose in più rispetto a quelle che facevamo prima con la 6D benissimo stiamo usufruendo di un qualcosa che abbiamo pagato ma se decidiamo di non usarle la fotocamera si comporta esattamente come la 6D quindi noi possiamo prendere una fotocamera professionale e utilizzarla passatemi il termine in maniera amatoriale non succede niente quello che succede è che avremo una qualità di immagine maggiore e avremo più facilità nel mettere a fuoco se impostiamo correttamente la messa a fuoco però se la lasciamo di default dovrebbe somigliare molto a quella a cui siamo abituati sulla 6D quindi non c'è tutta questa differenza se noi vogliamo personalizzarci dei bottoni e usare dei codec più progrediti e andare a fare delle cose nello specifico possiamo farlo e ce le abbiamo ma se decidiamo di non usarle secondo me l'esperienza d'uso rimane assolutamente inalterata cosa che non si può dire delle mirrorless io sento sempre più gente che sta scappando dalle mirrorless da tutta questa tecnologia perché si perde l'esperienza d'uso infatti io penso e spero che torneranno le reflex perché un bel momento la gente smetterà di comprarle le mirrorless perché i cellulari saranno sempre più performanti e quindi comprare una mirrorless che di fatto sarà un tablet con una lente attaccata non avrà più senso e a quel punto le case di produzione di macchine fotografiche secondo me si faranno una bella doccia di umiltà cominceranno a produrre di meno e ricominceranno a produrre per chi ha piacere di scattare quindi ricominceranno a produrre delle fotocamere fatte per il piacere di scattare e non per somigliare a degli smartphone più grossi tornando al nocciolo della questione vi ho promesso il mio parere siamo arrivati verso la fine del video quindi è il momento che io vi dica che cosa ne penso passerei dalla 6D a una 5D tra la 3 e la 4 la risposta è ragazzi sì passerei vi dico perché passerei innanzitutto perché sono conscio avendole entrambe che sto passando a una macchina migliore quindi io adoro la 6D lo sapete ho fatto un video sulla 6D ve lo lascio in card andatevelo a vedere io amo quella macchina l'amo alla follia però io so che la 5D è una macchina migliore per cui se fosse una mia scelta sì io il passaggio lo farei perché mi assicuro una fotocamera migliore una fotocamera di fascia professionale che mi dura anche che secondo me mi dura più di una mirrorless una 5D Mark IV anche usata acquistata oggi secondo me può durare più di una mirrorless posto che va bene le mirrorless ancora non sappiamo esattamente quanto durano però le reflex invece lo sappiamo e durano stramaledettamente tanto secondo me durano più di una mirrorless quindi sto facendo un affare la trovo a una cifra inferiore rispetto a una fotocamera nuova quindi anche lì è un punto di vantaggio sono fotocamere con cui si fa tutto si fa tutto con quelle macchine si fa tutto lato foto lato video sono d'accordo che la mirrorless è meglio infatti io le uso prevalentemente per fare video però la domanda era fotografica quindi la domanda è passeresti dalla 6D alla 5D per fare fotografia la risposta è assolutamente sì magari sarei un po' restivo a passare alla 5D Mark III perché la differenza è poca dalla 6D alla 5D Mark IV la differenza comincia a essere considerevole quindi lì tutta la vita il passaggio lo farei posto ovviamente che dobbiamo ricordarci la premessa iniziale a cosa mi serve posso permettermela me la ripago quindi queste sono cose da tenere a mente ovviamente se io mi compro una macchina come quella e magari so che spendo 1500 per prenderla usata però con i primi tre lavori che faccio me la sono già pagata tutta e quindi per me vale la pena un amatore che la prende come dicevo per fotografare il suo cane sa che non se la ripaga e quindi lì può essere un problema perché uno dice cavolo sono 1500 euro che io spendo per una macchina che non mi serve così tanto perché ho già la 6d sono soldi che non mi rientrano io lì capisco che ci sia il dubbio e lì dobbiamo decidere noi perché a quel punto è una coccola capito è una coccola che noi facciamo a noi stessi è evidente che se io me la ripago dico oh raga mi serve la compro basta se io non me la ripago perché non ci lavoro a quel punto posso fare due cose posso dire lascio stare costa troppo non mi serve oppure posso dire per il piacere di scattare in un certo modo per il piacere di avere delle foto magari con più risoluzione per avere più foto a fuoco per perdere meno istanti avere meno foto sfocate un sistema di messa a fuoco migliore io posso pensare di prenderla lo stesso considerando che le foto saranno più pesanti ci vorrà una memory card apposta quindi ci vuole la flash card non va più bene la sd che usavamo nella 6d quindi c'è anche questo da tenere a mente ci saranno dei costi comunque da sostenere almeno la batteria il caricabatteria rimane lo stesso queste sono tutte cose da considerare però siamo veramente di fronte a due fotocamere di fascia diversa e la 5d è sicuramente superiore quindi dobbiamo decidere quanto ci teniamo a realizzare degli scatti migliori e in base a quello decidiamo se vogliamo investire i nostri soldi ovviamente fermo restando che se noi invece di comprare un'altra fotocamera full frame volessimo investire sulle ottiche probabilmente sarebbe tanto di guadagnato anche lì perché se noi andiamo a investire su delle ottiche più veloci delle ottiche performanti probabilmente è un affare migliore piuttosto che andare a cambiare macchina e tenerci magari le lenti buie che avevamo prima se avevamo delle lenti buie prendere una fotocamera migliore non è quest'affarone perché poi abbiamo la fotocamera migliore ma siamo sempre frenati da delle ottiche che non performano quindi anche questo bisogna vedere se abbiamo delle ottiche serie L con diaframma fisso veloci che performano bene serenamente cambiamo macchina invece se vogliamo cambiare macchina ma abbiamo delle ottiche un po' intermedie forse è meglio che prendiamo un'ottica questa è la mia considerazione finale a questo punto fatemi sapere voi cosa ne pensate vi aspetto nei commenti ricordatevi che io cerco di rispondere a tutti quanti nei commenti però se tardo a rispondervi non vi arrabbiate subito perché è probabile che io stia mettendo in pianificazione di fare degli shorts per andare a rispondere quindi non vi incazzate cerco di rispondere a tutti se manco qualcuno riscrivetemi nello stesso commento così mi rendo conto che vi ho saltato o che vi ho lasciato in coda e recupero a questo punto io vi ricordo che per vedere tutte le mie risposte vi conviene iscrivervi al canale attivando anche la campanella se no poi io vi rispondo e ve la perdete lasciate anche un like a questo video che se l'avete guardato fin qui sono sicuro che vi è servito a qualcosa signori grazie di aver passato un po' del vostro tempo con me e io vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti